Il premio del Carnevale di Agropoli edizione 2019 va sicuramente all'Associazione Il Carro con il suo presidente Mario Piccariello, alla Polizia Municipale Cittadina, capitanata dal Comandante Carmine Di Biasi, al Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli, coordinato dal Capitano Francesco Manna, alla Protezione Civile, alla Croce Azzurra e all'Amministrazione Comunale Agropolese, presieduta dal primo cittadino Adamo Coppola. Sinergia di intendi, condivisione e spirito collaborativo sono stati gli elementi che hanno reso il Carnevale unico e straordinariamente affollato, con circa 20.000 presenze tra Via Risorgimento, Via Alcide De Gasperi, Via Piave e Piazza Vittorio Veneto. I carri realizzati dai maestri cartapestai agropolesi erano tutti ben fatti e quindi il compito è stato arduo per la giuria nel decretarne il vincitore. Sette i carri partecipanti che hanno stupito e emozionato anche le migliaia di persone che hanno seguito la diretta televisiva di Cilento Channel, canale 636 e pagina Facebook. 50.000 le visualizzazioni. È risultato primo classificato il circo che vogliamo di Rione Mattine. L'allegoria era incentrata sulla giusta informazione sul mondo che si cela dietro i circhi equestri. Il messaggio fondamentale che si è voluto trasmettere di rispettare queste creature in quanto valore inestimabile all'interno del nostro ecosistema. Secondo classificato il pifferaio del Rione Moio 2, mentre il terzo posto è stato aggiudicato al Rione Varco Cilentano con The Shark, Lo Squalo. A seguire quarto posto Rione Piano delle Pere con il carro un mondo migliore. Quinto posto eredita con Reca Yardin. Sesto posto Passero & Friends, Youppidu. Settimo posto Rione Giotto con il carro vero o falso. Le menzioni speciali per la modellatura e il pifferaio che ha vinto anche la menzione sul movimento, mentre l'allegoria è andata a The Shark. La menzione per la resa notturna è andata a un mondo migliore. Infine il carro vincitore e il circo che vogliamo ha ricevuto anche le menzioni per il colore e la scenografia. Si chiude dunque la 48esima edizione del Carnevale di Agropoli con l'appuntamento sicuramente rinnovato al Carnevale estivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.